Ciao a tutti da Federico da Roma. In questo video proseguiamo con la rubrica dedicata ad esplorare l'impianto audio video che uso per gli ascolti, le visioni e le recensioni di questo canale. Nelle passate settimane vi ho presentato l'unboxing dei singoli componenti di uno dei cinema pack della britannica Q Acoustics, quello dedicato a sale di piccole e medie dimensioni. A quegli unboxing avevo aggiunto quello dedicato ai diffusori a soffitto, sempre Q Acoustics, vista l'intenzione di far evolvere il mio home cinema verso le nuove codifiche audio ad oggetti Dolby Atmos e DTS-X. Con questa configurazione di altoparlanti sarei stato pronto per installare il mio nuovo impianto 5.1.2. Ricordo che questa nomenclatura estesa indica, con la prima cifra, i 5 diffusori principali di un tradizionale set home cinema, due frontali, uno destro e uno sinistro, un centrale e due diffusori surround, destro e sinistro. Con il punto 1 in seconda posizione si indica il subwoofer dedicato alle basse frequenze. E infine, con il punto 2 in ultima posizione, i diffusori da porre a soffitto. Da qualche anno però, nella mia precedente sala home cinema, era installato un impianto 6.1, che prevedeva un canale centrale posteriore situato tra i due diffusori surround. Questa configurazione, oltre a farmi godere al meglio le vecchie, ma purtroppo rare, codifiche native a 6.1 canali, come il DTS-ES, nell'ascolto tradizionale a 5.1 canali, rendeva il fronte posteriore molto più omogeneo, eliminando quel senso di vuoto che altrimenti può comparire negli effetti di panning tra i diffusori surround. Nel nuovo set non volevo rinunciare a questo tipo di esperienza, che per essere fruita al meglio avrebbe richiesto lo sviluppo di un impianto 7.1.2, nel quale i 5 diffusori principali diventano 7, canali frontali, canali centrale, canali laterali e canali posteriori. Questo tipo di configurazione, seppur realizzabile con qualche centinaio di euro in più, era di difficile implementazione nella mia sala home cinema. Prima di tutto per le dimensioni, poco più di 13 metri quadri non è lo spazio ideale per collocare 12 diffusori, considerando anche quelli per l'ascolto hi-fi a due canali. Inoltre la geometria stessa della stanza non avrebbe previsto una facile installazione dei diffusori laterali. Il laterale destro, diffusore numero 4 in foto, lo avrei dovuto installare in campo aperto, mentre il laterale sinistro numero 5, in parte nascosto da una tenda, sarebbe stato davvero troppo vicino ad uno dei canali posteriori, il numero 7. Insomma un mezzo pastrocchio. Mi si poneva quindi un primo problema. Come mantenere questa coerenza di suono del fronte posteriore in una sala non grandissima e pergiunta asimmetrica? Ma questa non era l'unica sfida. Sempre d'accordo il più possibile con i consigli di Anthony Grimani, guru dell'installazione di impianti home theater, basati anche sui fondamentali studi ingegneristici di Todd Welty sul numero e sul corretto posizionamento dei subwoofer in una sala cinema, mi ero posto l'obiettivo di incrementare non solo la qualità delle basse frequenze, ma anche la distribuzione delle stesse all'interno della nuova sala. A livello di misure, la soluzione migliore che la comunità audio-video suggerisce è quella di quattro subwoofer, posti nelle possibili modalità indicate nel video, con una preferenza alla prima soluzione, quella del posizionamento ai quattro angoli. Per chi fosse interessato ad approfondire, lascio il link in alto a destra al contenuto dedicato, in lingua inglese, di Anthony Grimani. Si poneva quindi un secondo problema. Come mantenere un'emissione coerente delle basse frequenze in una sala non grandissima e per di più asimmetrica? Dove installare i quattro subwoofer non avendo i quattro angoli? Ma secondo voi aveva senso questa cosa in 13 metri quadri di spazio dedicato? No ovviamente. Sono dovuto scendere ad un compromesso, potendo poi giocare in un prossimo futuro con la calibrazione tramite appositi software. Di questo parleremo nella quarta fase di questa serie di video. D'accordo sempre con le teorie di Todd Welty, ho scelto l'unica configurazione ottimale possibile per il mio set, ossia quella che prevede di porre i subwoofer nei due angoli opposti, in modo da ridurre le onde stazionarie e meglio distribuire le basse frequenze nell'intera sala. Badate bene, aggiungere un secondo subwoofer non incrementa la potenza dei bassi. Non ero interessato a pompare il suono per stupire gli amici o disturbare i vicini. Quello che mi interessava e mi interessa è raggiungere una completa ed equilibrata riproduzione dei bassi rispetto al disegno della sala e all'emissione delle altre frequenze. Fissata quindi la seconda cifra, possiamo velocemente congelare anche la terza. Sempre d'accordo con le indicazioni della comunità audio-video, in una sala piccola non si ha alcun beneficio ad installare più di due diffusori a soffitto. Anche volendo, non avrei comunque potuto farlo, se non rimettendo mano alle tracce a parete per nascondere il cablaggio. Insostenibile dal punto di vista dei tempi e soprattutto dei costi. Per tornare al primo problema, quello del fronte posteriore, per non rinunciare ad un'esperienza più appagante, alla fine ho scelto l'installazione di un unico canale posteriore, inventando una soluzione a parete per quelli laterali. Vedremo più avanti come. Definito il set da installare nella mia sala ora toccava studiare ancora per capire come posizionarlo nel giusto modo. E questa fase non è stata esente da problemi, in forza delle diverse e molteplici teorie disponibili nella comunità audio-video. In più, io avevo il problema del sesto canale, non molto codificato in letteratura. Alcuni sintoamplificatori di nuova generazione, come quelli della Yamaha per esempio, nemmeno supportano più l'unico canale posteriore. Per quanto concerne la fonte principale, le specifiche Dolby Atmos, questo dovrebbe essere il disegno del set più vicino a quello che dovevo installare. Ma c'erano altri aspetti ed altri parametri da tenere in considerazione citati in letteratura. Così tanti e a volte discordanti che mi sono fatto, come al solito, la mia personale checklist sulla falsariga di quella già utilizzata per l'installazione del televisore che vi sto mostrando ora a video. Lascio il link in alto a destra per chi fosse interessato a scoprire quel contenuto. La mia nuova checklist doveva prevedere per prima cosa, per il fronte anteriore, di rispettare un certo angolo di posizionamento dei diffusori rispetto al punto di visione, tra 44 e 60 gradi totali, mediando questo fondamentale aspetto con le dimensioni della stanza, che include anche l'uso di diffusori Hi-Fi, per i quali lascio il link in alto a destra alla serie Old Boxing. Ultimo parametro era quello sempre valido di posizionare il tweeter ad altezza orecchio. Per quanto riguarda il diffusore centrale, la mia checklist indicava di rispettare una distanza massima di 60 cm dai diffusori frontali, nonché anche qui di disporre il diffusore con il tweeter ad altezza orecchio. Vista così sembra quasi impossibile, ma vedremo come ho risolto. Per quanto riguarda i diffusori laterali, rispettare anche qui il principio di posizionamento del tweeter ad altezza orecchio, ma in più rispettare anche quello di un angolo tra 90 e 120 gradi rispetto al punto di visione, installando questi diffusori in linea con quelli frontali. L'unico canale posteriore avrebbe dovuto essere installato ad almeno 50 cm dal punto di visione, con il tweeter allineato a quello degli altoparlanti laterali. Per i diffusori a soffitto, infine, prevedere un angolo verticale tra 65 e 110 gradi, installandoli sulla linea mediana tra i canali frontali e quello centrale. Nei prossimi minuti vi dimostrerò come ho raggiunto un buon compromesso di installazione del mio impianto 6.2.2 con una corrispondenza di più dell'80% rispetto alla mia personale checklist. Prima di proseguire, se siete arrivati fino a qui, vi chiedo di lasciarmi un like se il video vi sta piacendo. Se siete interessati ad altri contenuti di questo canale, sempre a carattere amatoriale, potete iscrivervi e attivare la campanellina per la notifica di pubblicazione di nuovi contenuti. Quella che vedete in video è la rappresentazione in scala del posizionamento finale dei diffusori home cinema nella mia nuova sala. Nei prossimi minuti andremo ad esplorare le singole installazioni, verificando gli scostamenti rispetto alla checklist che avete visto prima. Ho iniziato l'installazione del mio impianto 6.2.2 dall'unico canale posteriore che ho inserito all'interno della nicchia che vi ho già mostrato quando ho presentato i lavori di ristrutturazione della mia sala audio video. Lascio il link in alto a destra alla playlist con tutti i contenuti dedicati. Per la corretta installazione di questo diffusore, per prima cosa ho ripreso sulla parete posteriore la misura dell'altezza dei miei occhi, seduto dal punto di visione, un divano in pelle nera a due posti che vi ho già mostrato in altri video. Per essere sicuro di effettuare la misura più precisa possibile, ho utilizzato i calcoli già effettuati per l'installazione del tv a parete, ribaltando al millimetro le misure sulla parete posteriore per mezzo di un misuratore laser Popoman che trovate recensito al video suggerito in alto a destra. Incrociando sul piano orizzontale questa misura con quella verticale di separazione a metà della porzione home cinema della mia sala, ho identificato il centro esatto per l'installazione del diffusore posteriore. La linea verticale arancione che vedete rappresenta il punto minimo di distanza del diffusore dal punto di visione, 50 cm, ma in realtà saremo ben oltre questa misura. Dal momento che il diffusore andava posizionato all'interno della nicchia, completamente attaccato alla parete, come suggerito dalla Qacustics per questo tipo di installazioni, ho utilizzato le spugnette in dotazione per chiudere i due tubi reflex. Per connettere il diffusore all'amplificatore, continuerò ad utilizzare i cavi G e BL che usavo sul precedente impianto Indiana Line, essendo nascosti a parete in appositi corrugati. Ho deciso di non sostituirli, visto che la loro installazione al tempo è stata difficilissima a causa delle numerose curve del percorso. Il cavo esce direttamente in una seconda piccola sezione della nicchia, destinata a contenere i connettori dei diffusori. Ho inserito direttamente i cavi spellati all'interno dei comodi connettori Qacustics. Installato il diffusore perfettamente al centro del punto di visione, come vedete nel video c'è un piccolo dislivello verso il basso. Questo perché la menzolina in marmo della nicchia non è sufficientemente profonda per contenere tutti i piedini del diffusore. Per poter correggere questo piccolo difetto ho utilizzato in prodotto modellabile della UU, una sorta di grey tack ma di colore nero, quindi più discreto rispetto al normale tack in vendita. Poste delle piccole palline sotto il diffusore, ho potuto regolare di fino la messa in bolla, con l'ulteriore vantaggio di disaccoppiare il diffusore dalla mensola stessa. In foto si vede il risultato finale con il diffusore installato nella nicchia senza cavi visibili. Uno zoom all'indietro contestualizza il diffusore rispetto al resto della parete, in un momento in cui stavo sballando e ordinando un'altra parte della mia collezione di cd, posta all'interno di mensole Ikea, ora fuori produzione. Questa installazione non è solo un modo ordinato di sistemare la propria collezione di cd, ma è anche un altro sistema di correzione acustica, posta dietro il punto di visione, con l'obiettivo di infrangere le onde stazionarie. L'installazione dei diffusori frontali ha richiesto delle misurazioni ancora più complicate, dovute a due importanti vincoli, il poco spazio disponibile per l'installazione ai lati del televisore e la necessità di non disturbare il futuro posizionamento dei diffusori per l'ascolto Wi-Fi. Per arrivare ad una soluzione di equilibrio, che fosse anche esteticamente accettabile, mi sono servito di alcuni semplici strumenti oltre alla calcolatrice scientifica. Per le misure precise ho utilizzato il telemetro laser Popoman posizionato su un cavalletto, in corrispondenza dell'esatto punto di visione, sempre ai miei occhi seduto sul divano. Da qui ho identificato il miglior punto possibile per l'installazione di diffusori frontali, sfruttando le possibilità offerte da un altro strumento. Come anticipavo nei video di unboxing del Cinema Pack della Q Acoustics, la casa britannica ha catalogo delle staffe a muro che consentono di ruotare i diffusori, entro un certo limite, sia sull'asse longitudinale sia su quello trasversale. Questo piccolo gioco mi ha permesso di installare le Q Acoustics 3020i reclinate all'interno e verso il basso, in corrispondenza del punto di ascolto, una soluzione che avevo adottato, con metodo meno preciso, nel mio precedente set Indiana Line. Ho posizionato il diffusore sulla staffa in modo da avere l'emissione del Twitter all'altezza circa del mio orecchio posto sul punto di visione, prendendo come riferimento il Twitter del canale posteriore. In questo modo, oltre a risultare funzionale ed esteticamente piacevole, ho evitato che l'emissione delle 3020i fosse disturbata dalla presenza dei diffusori Hi-Fi della Arbet. Per tutti i diffusori del fronte anteriore ho utilizzato dei cavi di potenza dal buon rapporto costo-qualità, utilizzando le Q Acoustics 3020i anche per l'ascolto a due canali. Tratterò meglio questo argomento in uno dei prossimi video. I cavi in questione sono dei Kimber Cable 4WS adatti a diffusori di piccole dimensioni, che ho connesso direttamente tramite cavo spellato, per questioni di più facile installazione a muro. Al sinto amplificatore invece ho utilizzato per tutti i diffusori le banane Screw Lock della Quad, in modo da garantire un serraggio eccellente in un punto di difficile accesso come il retro di un sinto amplificatore. L'installazione è stata completata infine nascondendo i cavi in apposite canalini a muro, successivamente dipinte in tinta. Per raggiungere il duplice obiettivo di porre il canale centrale ad una distanza massima di 60 cm dai diffusori frontali, come indicato in letteratura, ed elevare il Twitter ad altezza orecchio. Ho posto il Q3090CI sotto al televisore, poggiandolo al centro del mio tavolino Music Tools, di cui vi ho già parlato in un precedente video, con una punta conica poggiata su un blocchetto di grafite Art. Il risultato finale del fronte anteriore è quello che vi sto mostrando a video. Per l'installazione dei due diffusori laterali, ho applicato la stessa metodologia di quelli frontali, posizionandoli, come ho già detto all'inizio di questo video, sulla parete di fondo, con il Twitter allineato al Twitter dell'unico canale posteriore. L'installazione a staffa mi ha permesso, in maniera ancora più evidente rispetto ai frontali, di orientare i diffusori verso il punto di ascolto, così da avere il miglior coinvolgimento possibile ed acusticamente corretto. Anche in questo caso, tutti i cavi G e BL provenivano da corrugati a muro del precedente impianto, con la sola differenza che sono state installate delle canaline per nascondere anche l'ultimo miglio di cavo. Nella foto a video vi mostro il fronte posteriore con gli ulteriori trattamenti acustici, comprese le comode librerie Vasagol trattate in un precedente video di unboxing. Al sinto amplificatore i cavi G e BL sono stati terminati anche in questo caso con le banane screw lock della Quad, sempre per ragioni di ottimo serraggio e più facile rimozione. Anche sull'installazione dei due subwoofer ho già detto molto in precedenza. Mi limito qui a segnalare solo tre cose ulteriori. Prima di tutto il fatto che i Q30-60S hanno un'emissione laterale. Questa li rende decisamente più difficili da collocare dei classici cubotti. La scelta è abbastanza obbligata a meno di non avere le connessioni dei cavi a vista. La seconda cosa da segnalare, ma sarebbe meglio tacere su questo, è la connessione di segnale del primo subwoofer, vero tallone d'achille di questo impianto. Purtroppo il cavo di segnale in canalina a muro è stato installato diversi anni fa e dovendo sacrificare al tempo qualche euro, la scelta è ricaduta su questo componente. Per carità non si tratta di un comune cavo da pochi centesimi al metro, ha sempre un'ottima schermatura e per l'occasione sono state eliminate le vecchie saldature sostituite con questi connettori di medio prezzo a libera installazione. Ma il cavo non ha un nome blasonato, anzi forse non ce l'ha proprio un nome e non ricordo dove fu acquistato. Per questione di omogeneità ho dovuto risparmiare anche sulla connessione del secondo subwoofer orientandomi su questo cable direct da 3 metri acquistato sul noto store internazionale. Avendo maggiore libertà di azione non ho invece lesinato ai due subwoofer un buon cavo di alimentazione essendo entrambi i Q3060S amplificati in classe D e alimentati non dalle prese della linea elettrica dedicata a cui è collegato il resto dell'impianto audio video. Lascio anche in questo caso il link al contributo dedicato. Per alimentarli ho utilizzato una coppia di Xlo Reference 2 acquistati su un altro conosciutissimo store cinese a circa 30 euro l'uno. Sono dei prodotti veramente ben fatti che danno anche la flessibilità di poter scegliere la connessione con spina 8 verso l'alimentatore del subwoofer. Per i diffusori a soffitto la letteratura audio video è decisamente contrastante riguardo al loro posizionamento. Anche in questo caso ho dovuto trarre le mie conclusioni più condizionato rispetto agli altri diffusori da vincoli logistici della mia sala. Quando vi ho fatto entrare virtualmente nella mia sala d'ascolto avrete notato il controsoffitto in cartongesso. Nella parte bianca è presente una rientranza che prima dei lavori di ristrutturazione ospitava un insieme di pannelli fonoassorbenti da ufficio, un primo funzionale trattamento acustico a buon mercato dell'allora sala audio video. Questa rientranza mi ha vincolato nell'installazione dei diffusori a soffitto creando una leggera asimmetria. Il diffusore superiore destro risulta allineato ai diffusori frontali mentre il diffusore superiore sinistro è posizionato a metà tra centrale e diffusore frontale. Per quanto riguarda l'angolo di posizionamento ho preferito considerare le specifiche della Dolby. A sinistra quanto viene prescritto per gli impianti 5.1.2 a destra il risultato delle mie misurazioni. Per quanto riguarda le connessioni di questi diffusori ho scelto dei cavi di potenza super sottili della Quad per non avere particolari problemi nei corrugati a muro. Lato sinto amplificatore ho usato sempre le connessioni a banana Quad. A questo punto siamo pronti per tirare le somme rispetto all'iniziale checklist. fronte anteriore diffusori frontali. Angolo tra 44 e 60 gradi rispetto al punto di visione. Con un angolo finale di 40 gradi mi sono avvicinato alle specifiche Dolby ma non le ho soddisfatte appieno. Posizionamento coerente con l'installazione dei diffusori a FAI e posizionamento del Twitter ad altezza orecchio. Parametri soddisfatti sfruttando l'installazione a parete con le staffe mobili della Q Acoustics. Fronte anteriore canale centrale. Posizionamento sotto al televisore ad una distanza massima di 60 centimetri dai diffusori frontali e posizionamento del Twitter ad altezza orecchio. Entrambi ok con la soluzione della punta conica e del blocchetto in grafite. fronte posteriore diffusori laterali. Angolo tra 90 e 120 gradi rispetto al punto di visione. posizionamento del Twitter ad altezza orecchio e posizionamento in linea con i diffusori frontali. Tutti soddisfatti grazie all'utilizzo della modalità di installazione con staffa a muro. fronte posteriore diffusore posteriore. Ok sia al posizionamento ad una distanza minima di almeno 50 centimetri dal punto di visione sia il posizionamento del Twitter alla stessa altezza di quello dei diffusori laterali. Fronte superiore. Angolo tra 65 e 110 gradi rispetto al punto di visione. Soddisfatto anche questo parametro avendo un angolo di 75 gradi. posizionamento a metà tra i diffusori frontali ed il canale centrale. KO perché uno dei canali per vincoli logistici non può rispettare questa modalità di installazione. secondo voi ho tralasciato qualcosa nonostante questi quasi 25 minuti di video? Avete definito anche voi una vostra personale checklist prima dell'installazione dell'impianto On Cinema? Se sì che risultati avete raggiunto? Lasciate pure un commento per raccontare la vostra esperienza o i vostri suggerimenti. Per questo lungo video è davvero tutto. Ciao e grazie da Federico da Roma.